dai 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 vai il sbaglione deve stare qui avanti dai dai voglio restare a pochi dai 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 bravo dai dai apri oh che c'era no che c'era è rialzata quella che abbiamo fatto prima dopo ci sarà l'attacco perché dopo sarà tutto in sicuro no bravo ci siamo rialzata vai apri bravo 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 fermo allarga dietro allargando la cosa poi la taglia allargati la postura di i piedi un pochino di più allarga non ci arriva troppo dietro che poi quando fai i piedi che si stringono da sempre vai accetto 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 guardalo bene attentamente per favore allargale la postura delle gambe devi arrivarci un po' più largo e porta sta gamba via l'ultima dai allargale allargale è stretto è stretto hai capito allargale un pochino di più parti giallano dai rapido ok adesso dobbiamo mettere i palloni di qua la capoccia non punta verso il passo devi essere lastito dalla testa segui la linea retta del passo dai allarga non l'ha fatto vai non strusciare mai più i piedi non strusciare più i piedi dai dai ma anche i piedi dai 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 e se lo facciamo vieni bravo bravo questo è anche la tecnica dai Grazie.